Margherita è protagonista di una storia di grande valore umano e professionale che riempie d'orgoglio tutti noi e la nostra alma mater. Siamo qui per l'alumnus dell'anno. L'alumnus della Bocconi dell'anno. Intraprendenza, integrità, responsabilità e apertura al pluralismo. Cinque valori che incorniciano perfettamente Margherita. Celebriamo una persona che rappresenta Bocconi. Margherita è per tutti questi motivi che siamo orgogliosi di annoverarti nell'albo degli alunni dell'anno dell'Università Bocconi. Sono davvero commossa da questo riconoscimento e non solo devo dire per l'eccellenza che la Bocconi rappresenta nel mondo come abbiamo sentito ma anche per il ruolo che questa università ha avuto nella mia vita e in quella della mia famiglia. Io sono qui stasera perché ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada delle persone eccezionali. Desidero complimentarmi anch'io diventando di colpo partecipe del clima che qui aleggia con la nostra alumna Margherita della Valle. Pocconi non è solo un'educazione, è un'esplosione per le vostre ambizioni. Ecco, per me è stato proprio così. Grazie. 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 Grazie.